Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare e cosa si trova intorno al Mitsui Garden Hotel di Kyoto, a Shijo. Praticamente quello che vedete qui alle mie spalle è l'incrocio tra Shijo Dori, che è questa strada che va di là, e Karasuma Dori, che è questa strada. Qua dietro, praticamente parallela a Shijo Dori, cioè qui dietro, corre il Nishiki Market, il storico mercato di Kyoto, ricco di tradizioni, che vi consiglio ovviamente di visitare. E poi qua, proseguendo molto avanti, comunque abbastanza avanti, si arriva verso la zona di Gion, tanto per darvi un'idea, invece di qua, pian piano si arriva verso la zona della stazione di Kyoto. Ma non è molto importante questo, quello che è importante sapere è che praticamente qui si trova la Karasuma Station della linea Hankyu e la Shijo Station della metropolitana di Kyoto. Potete prendere tranquillamente quest'uscita, che è la numero 24, ma ci sono uscite anche dall'altra parte, poi vi farò vedere un po' di cose. In quest'area della città di Kyoto non è che ci sia niente di particolarmente interessante da fare o da vedere, ma è molto comodo alloggiare qua perché la zona ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e in un attimo, appunto, come vedete, ci possono prendere gli autobus oppure le linee che vi ho appena illustrato poco fa, insomma. Quindi andiamo sempre da questa parte e vedrete che in pochi minuti arriviamo nella zona del vostro hotel. Veramente, veramente una zona comoda questa, direi. Poi ovviamente quando è sera voi proseguite di là per andare a farvi un giro, sempre diritti. Ricordatevi magari questo grande incrocio tra Karasuma Dori e Shijo Dori, ma sempre diritti. E là sotto, praticamente, come su questo marciapiede, proseguendo diritti, appunto, lo ripeto, ci sono delle... tipo di portici, diciamo, in modo tale che se anche piove non ci si bagna, è molto comoda questa cosa. Che è un po' comune in tutte le grandi città giapponesi. Vediamo di prendere il semaforo verde. Poi ovviamente se avete qualche dubbio, curiosità, volete saperne di più su come arrivare, cosa fare, eccetera, venite sul mio sito www.marcotoni.it, in cui vi dico sia altre sistemazioni qui a Chioto economiche e ottime, o magari anche un pochino più costosette, se qualcuno le desiderasse. E ovviamente vi do tante altre indicazioni per vedere al meglio questa grandissima città, grandissima nel senso sia di dimensione, ma sì soprattutto di emozioni che può regalarvi, grazie alle tantissime tradizioni che troverete e che vi rimarranno praticamente nel cuore per sempre, ve lo garantisco. Vedete, io sto semplicemente procedendo in questa direzione, l'uscita che vi ho fatto vedere poco fa, ricordatevela, perché è molto importante, ma in un attimo si arriva comunque nella zona dell'hotel. Consiglio sempre di dare un'occhiata a quanto ci metto effettivamente con il video, considerate che magari io mi fermo, vi faccio vedere di qua, di là, varie cose, e quindi magari nel video ci si mette un po' di più rispetto a quello che ci potreste mettere voi camminando in questa parte della città. Però, tanto per darvi un'idea, perché sapete com'è, su internet magari uno scrive «Ah, l'hotel si trova a 8 minuti o 5 minuti o 2 minuti dalla metropolitana, e quando magari non è vero». E invece io con questi video qua vi voglio dimostrare che effettivamente si trova veramente molto, molto vicino alla metropolitana, oltre che ovviamente agli autobus. sempre diritti, sempre diritti, non preoccupatevi di niente. ho fatto un attimo un taglio, scusate, vi faccio vedere lì dietro che c'è Ioi Ken, che ha una catena dove fanno dei set abbastanza ben bilanciati, di un posto molto simile ad Otoia, che è un'altra catena che a me piace molto, perché ci sono questi sapori veramente non troppo da ristorante, diciamo. Qui è un pochino più da ristorante, secondo me è un po' più... meno casalingo rispetto ad Otoia, però veramente non è male questo. Continuiamo qua la nostra camminata verso l'hotel, ma vedrete che ci siamo praticamente. vi ricordo di là, sempre diritti e c'è alle mie spalle la metropolitana e sempre diritti, si va verso la zona più intrigante di Kyoto, che è la zona di Kaoramachi e la zona di Gion, ma sono un filino lontane forse da qua, quindi magari conviene prendere la metropolitana se volete andare verso Gion, anche se in realtà potete arrivarci tranquillamente a piedi, senza alcunissimo tipo di problema. Qua c'è un combini, un family mart, è sempre comodo avere un combini vicino all'hotel, praticamente i combini, questi negoziati aperti 24 ore su 24 di varie catene, vedete, family mart, quindi allora vi faccio un piccolo riepilogo dalla metropolitana, sono venuto di qua, qua giro a sinistra, poi magari fatevi due appunti, intanto questo video non vuole essere un video che io sono un GPS vivente, ma vuole essere un video dove io vi spiego a grandi linee come arrivare fino qua e cosa c'è qui intorno, non voglio dire che deve essere l'unica strada, l'unico modo e tutto quanto per arrivare al vostro hotel, ma deve essere solo una delle tante possibilità. Qui si trova un altro hotel, il corto hotel Kyoto Shijo, che vedete in un altro mio video e il trovate sul mio sito, e qui davanti il fantastico Mitsui Garden Hotel, come potete vedere, bella struttura veramente, il rapporto qualità prezzo, lo dico sempre per tutti gli hotel, che è ottimo, ma perché l'ho controllato io, perché comunque non lo direi per tutti gli hotel del mondo, ma qui veramente il fatto che sia un filino fuori qui dalle zone più stracentrali, ma comunque come avete visto a 5 minuti a piedi dalla metropolitana fa sì che questa struttura abbia delle stanze ottime a un prezzo. Ok. Diciamo che per questo video è tutto, come arrivare al Mitsui Garden Hotel di Kyoto e cosa si trova qui nelle vicinanze, venite a visitare il mio sito www.marcotani.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!